Io mi trovo qui nel centro storico di Lecce e sto intervistando il nostro caro amico Peppiniello. Sera a tutti. Grande voce Peppiniello. Io ti posso riprendere, no Peppiniello? Come no? Ecco, perfetto. Io volevo portare un po' a conoscenza degli amici, quelli che non ti conoscono, la tua voce, perché sei veramente un grande artista. E non lo dico perché sei qui a fianco a me, perché lo credo realmente. E quindi, Peppiniello, raccontaci un po' della tua vita. Dicci qualcosa così, qualcosa di breve e coincisa. A riguardo, diciamo, quello che faccio. Quello che fai, ecco, quello che faccio è l'arte in strada, spazio un po' in vari generi musicali, la canzone classica napoletana, la canzone, diciamo, allegra, e poi anche un po' il genere di cantatori italiani, suono chitarra, suono mandorino, suono bencio, faccio anche musica americana e faccio anche brani hawaiiani con l'ukulele. E ho anche le armoniche a bocca, quindi ho diversi strumenti che posso spaziare. Quindi mi accingo a suonare in strada e poi ho fatto serenate, ho suonato in vari gruppi musicali e ho fatto anche, diciamo, anche spettacoli di locali, di ristoranti, di paleri. Guarda, io ho ascoltato, ho ascoltato questo artista, è davvero bravo. Non glielo dico perché sto qui vicino. E ha una caratteristica, ha una grande voce. Lui non canta col microfono, non ha bisogno di microfono. Peppiniello è un grande, ha una grandissima voce. Peppiniello, noi, volevo dire agli amici, agli amici di Facebook, agli amici un po' che ci ascoltano, che Peppiniello fa anche le serenate comandate. Quindi se dovete fare qualche serenata comandata, Peppiniello, lo trovate anche su Facebook. E anche serate, diciamo, cene. C'è, tra amici, ecco, in compagnia, feste così, feste private, sui tra amici, benissimo. Una voce, una chitarra e un po' che l'una. Una voce, una chitarra e un po' che l'una. E tu, che vabbè, che grande voce, che grande voce. E allora salutiamo, salutiamo gli amici. Saluti da Lecce. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata.